ciao sono il dottor max della pharma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare da damo light cell b a b e guai mi srl ultimo aggiornamento 20 maggio 2020 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze ingredienti apporto nutrienti immagine prodotto a cosa serve da damo light cell b a b è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per il controllo dei lipidi plasmatici è commercializzato in italia dall'azienda e guai mi srl informazioni commerciali titolare e guai mi srl concessionario e guai mi srl categoria di appartenenza integratori per il controllo dei lipidi plasmatici forma farmaceutica capsula confezioni da damo light cell b a b 90 capsule da 557 mg 50,13 g indicazioni indicata per favorire il metabolismo dei lipidi per sostenere le funzioni depurative dell'organismo e un'azione emolliente lenitiva sul sistema digerente modalità d'uso si consiglia l'assunzione di due capsule al giorno descrizione e caratteristiche integratore alimentare a base di cipolla indicata per favorire il metabolismo dei lipidi con broccolo e cavolo di bruxelles per sostenere le funzioni depurative dell'organismo ed avena e gombo che spiegano un'azione emolliente lenitiva sul sistema digerente avvertenze non superare la dose giornaliera consigliata tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata di uno stile di vita sano non utilizzare in caso di disfunzioni della tiroide punto conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di luce e calore la data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra da consumarsi preferibilmente entro fine vedi timbro sulla confezione ingredienti cipolla allium cpa l giovane bulbo agente di rivestimento esterno capsula in idrossipropil metilcellulosa avena avena sativa l giovani sommità broccoli brassica oleracea l varitalica foglie cavolo di bruxell brassica oleracea l var gennifera foglie arabino galattano gombo abelmoscus esculentus l moenck frutti prezzemolo petroselinum crispum mille fus foglie melone citrullus lanatus tumb matsum enakai frutto estratto e polvere di crusca di riso agente anti agglomerante biossido di silicio apporto nutrienti contenuti medi per dose max giornaliera 2 cps cipolla giovane bulbo 225 mg avena giovani sommità 200 mg broccoli foglie 100 mg cavolo di bruxell foglie 75 mg arabino galattano 50 mg gombo frutto 50 mg prezzemolo foglie 50 mg melone frutto 50 mg fonte codi fa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato